buongiorno amici comincia oggi una nuova settimana di borsa come al solito vediamo insieme quelle che sono le notizie più importanti dal punto di vista finanziario che possono impattare sul mercato cominciamo subito con le notizie di lunedì lunedì 26 marzo lunedì 26 marzo non abbiamo alcuna notizia di rilievo mentre martedì abbiamo il CV consumer confidence è un indice che si basa su interviste rilasciate da 5.000 famiglie e rileva la propensione ai consumi dando quindi delle indicazioni su quello che è l'andamento economico un dato migliore del precedente ovviamente favorisce una salita del dollaro mercoledì abbiamo il final gdp cioè il valore del pil annuale corretto in funzione dell'inflazione è la misurazione più ampia dell'attività economica è il principale indicatore della salute dell'economia di un paese dato migliore del precedente anche in questo caso favorisce la salita del dollaro alle 15 30 abbiamo l'invento di scrude oil la solita variazione delle scorte di petrolio negli usa giovedì il current account inglese cioè la differenza di valore tra quelli che sono i beni importati e i beni esportati i servizi e i flussi monetari cioè i trasferimenti unilaterali nel corso del trimestre precedente venerdì non ci sarà nessuna notizia di livello in virtù anche dell'approssimarsi della pascola bene queste erano le notizie di venerdì 30 l'ultimo giorno di questa settimana ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con amica borsa non ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con amica borsa